Allora, questa seconda sessione della mattinata si dedica ai temi della formazione e dell'insegnamento. Per formazione intendiamo anche il periodo di formazione di Giorgio, di cui ci parlerà Marco Petreschi, che è il primo relatore, che è stato docente di progettazione architettonica in questa facoltà e che è stato un caro amico e compagno di classe di Giorgio per tanti anni. Grazie. Mi raccomando con tutti i relatori il rispetto dei tempi, io tengo inesorabilmente un timer. Allora, intanto sono contento di far parte di una sessione in cui sono tutti giovanissimi. Io francamente sono un pensionato di questa facoltà e quindi porto agli estremi. Poi per stare all'interno dei limiti che mi sono stati assegnati ho preferito scrivere quello che vi dirò, perché così starò all'interno dei 18 minuti virgola 30 secondi e nello stesso tempo vorrei dedicare questo scritto che consegnerò a Oliva. Per il semplice fatto che l'ho vista nascere piccola piccola e adesso arrivare qui in questa facoltà e le auguro che praticamente Oliva possa seguitare sulla scia del padre il suo messaggio. Allora, alcuni mesi fa, in una delle tante conversazioni che avevo con Giorgio, gli facevo presente che mi ero stancato dopo 50 anni di leggere quasi sempre libri e testi di architettura. Così gli dissi che mi ero dedicato da tempo alla rilettura dei grandi classici, saltando in modo random da uno all'altro di quei bei romanzoni che hanno scrutato a fondo non solo tanti periodi della storia, ma quello che più mi interessa, la condizione umana. Da Tostoi, Cervantes, Stendhal, Fritz, Gerald, Gadda e André Marrault, da Morante e così via. Proprio in quei giorni in cui Giorgio si sentì male e con Luca Ribichini ci demmo immediatamente da fare per toglierlo dalla barella di un corridoio del policlinico e per farlo ricoverare in una stanza, ero immerso nella lettura di Moby Dick. E in particolare la sera di quell'infausto giorno in cui ci lasciò, dopo aver fatto visita a Clementina e i suoi familiari, ne rilessi più volte il capitolo dal titolo Il Tessitore, che fa capire come nella nostra vita esista un evento ineluttabile che ci governa e ci colpisce contro la nostra volontà. Ovvero il caso. Se non lo ricordate lo riassumo in tre minuti. Chepeg, il terribile ramponiere cannibale, tesse sul ponte del Pequod una stuoia aiutato da Ismaele, il narratore, che sarà l'unico sopravvissuto al naufragio provocato dalla balena bianca. Quest'ultimo fa da spola con le sue mani e osserva quel lavorio e l'ordito di base composto da fili regolari intrecciati che avanzano in lunghezza e assimila metaforicamente quel lento procedere della trama al defluire dei giorni, o meglio del tempo. In altre parole, allo scorrere della nostra vita, quipeg inconsapevole si intrufola in quell'ordito con fibre con uno strumento di quercia, manovrando in direzioni opposte imprevedibili, spesso deviandolo violentemente. Il corso regolare delle fibre e quelle mosse scomposte utili a configurare la stuoia, Ismaele le assimila al caso. L'intreccio tra i fili della vita e i vari corpi che ci si innestano danno forma agli avvenimenti senza che mai si possa respingerli e tantomeno pianificarli e prevederli. Ecco perché rilessi quel capitolo il giorno in cui Giorgio ci lasciò, chiedendomi se il caso che ci governa fosse stato il vero responsabile del nostro incontro e infine della sua prematura scomparsa. Infatti fu per puro caso che conobbi Giorgio. Vale a dire, ai primi di ottobre del 1964, sulla soglia di questa facoltà, eravamo tutti accalcati all'ingresso per il primo giorno di scuola e casualmente ci siamo scontrati e smarriti come eravamo. Lui mi chiese scusa per l'urto e poi mi domandò dove dovevamo andare ignari di un luogo dove avremmo vissuto per 50 anni. Permettetemi di usare la tecnica o meglio lo stile di comunicazione di Giorgio che per descrivere un evento, come sapete, usava passare da acute e colte analisi alla satira e a volte scansonata e spregiudicata alla Charlie Hebbo, con la quale uncina, e uncinava anzi, vari consessi e tanti dei suoi studenti. Insomma passerò da Melville a Mastro 5, Totò e la malafemmina. In un certo qual modo ci comportammo come Totò e Peffino spaisati a Piazza del Duomo quasi per mano chiedendo ad uno che pareva molto autoritario e un po' più esagitato degli altri, assimilabile a un ghisa, dove andare per andare dove dovevamo andare, ovvero in quale aula dovevamo dirigerci. Questi con cipiglio, con tanto di barba incolta avvolta in un eschimo, noi al contrario con giacca e cravatta, ci parlò dell'assemblea del cinema Roxy e che dovevamo preoccuparci di ben altre cose che delle aule. Non capimmo nulla. Avremmo capito dopo ognuno di noi come tanti studenti di allora che a causa degli esiti di quegli eventi avrebbero intrapreso differenti strade. Ripensandoci oggi, a mio opinione, anche se so che molti colleghi non la condivideranno, gran parte di quegli itinerari portarono allo sperpero di decine di talenti perché tanti si dedicarono a una visione impegnata dell'architettura per cambiare il mondo e la società prima ancora di acquisire un mestiere che rifiutavano di apprendere e che in parecchi poi inseguiranno in tarda età. Da allora l'arte e la scienza di giovaneana memoria, che tanto amava Giorgio, si separarono sempre più e molti, forse tra i più talentuosi, si accontentarono di pensare di architetture disegnate. Come riporta giustamente Claudio D'Amato in un suo testo, in quel periodo in Europa prevalse una marcata ideologia di sinistra, al contrario negli Stati Uniti l'ideologia del successo individuale. In quel clima, che si faceva sempre più rovente, cominciammo a frequentare assieme la facoltà e a preparare i primi esami, una volta a casa sua, a Via Tevere, una volta a casa mia, affascinati da Bruno Zevi e da quel mito dei maestri individualisti quali Wright, Le Corbusier, Mies ed altri. Anzi, a dir poco, affascinati, stregati, al punto da non vedere altro che attraverso i suoi occhi. In un libro della Schirà dedicato ai miei lavori e commentato da alcuni critici, Giorgio, che ne faceva parte, descrisse in maniera mirabile quel periodo, i viaggi in Cinquecento in Europa, che ho sempre chiamato i Grand Tour alla rovescia, ad inseguire gli eroi del movimento moderno, in primis Macintosh fino a Hallesburg, a raggiungere la Hill House, per passare a Glasgow in pellegrinaggio alla School of Art, a caccia di quelle architetture sognate, sperate e lontane che avevano visto nel grande schermo di quest'aula, grazie a Zevi, Piccinato, Lugli, Sacripanti e tanti altri. Passammo pure per Cumberland, una New Town appena realizzata. Lì avvenne qualcosa di strano. Giorgio ed io ci sentivo dire dagli abitanti che il venerdì sera in gran parte scappavano chi a Edimburgo, chi a Glasgow, per ritornare a passare il weekend negli slums da dove provenivano. Ma come? Qui è tutto nuovo, è tutto lustro, tutto moderno. Ecco appunto, è tutto moderno. Secondo me, anzi ne sono matematicamente sicuro, lì Giorgio ebbe una sorta di conversione, una caduta da cavallo del movimento moderno. Cominciò la crisi, la voglia di recuperare un percorso dal quale le tante affabulazioni importate dall'estero ci avevano distratto. Tornati a Roma, erano già trascorsi due anni da che studiavamo assieme, nonostante ci fossimo gettati tra le braccia Sorgnone e gli sguardi accigliati e cinici di Quaroni, cominciamo a pensare che tutto sommato il tanto vituperato Saverio Muratori aveva da tempo avvertito i sintomi di una crisi del linguaggio dell'architettura moderna e su questo bisognava riflettere. Da parte in via, invece, folgorato dalla messa di dettagli dell'uso dei materiali, dell'ornato, dei colori e della continuità della tradizione di Macintosh, non desideravo altro che apprendere un mestiere, fregandomi di tanti che ritenevano a quel tempo la professione, un asservimento al capitale. Ecco due tipi di conversione. Giorgio si gettò anima e corpo verso gli studi approfonditi di storia e di critica per trovare una sua propria strada. A mia volta, con altrettanta passione, mi dedicai all'apprendimento artigianale del mestiere cercando di recuperare qualche lavoro attraverso i concorsi. Così ci separammo per ritrovarci dopo qualche anno nuovamente assieme, lui per la sua strada, io per la mia, non escludendo tra di noi qualche discussione con reciproche, sarcastiche, ironie, critiche. Io gli dicevo che voleva imitare Tafuri, lui che a mia volta mi diceva che volevo fare l'architetto totale, quello che insegue il progetto integrale dal cucchiaio alla città di Corpusana Memoria. Comunque accomunati da un amore perfino esagerato per l'architettura e questo va riconosciuto a Zevi. Si pensi che come Purini ed altri si davano ai propri figli i nomi dei professori Saveria, Lodovica, Giorgio, Sacripanti. Quanto lui amasse Tafuri è dimostrabile in tanti suoi scritti, queste le sue parole. Manfredo resta comunque un caso esemplare e a meglio analizzarlo credo di poter affermare che alcune sue più recenti scelte di campo, per esempio nell'ambito dell'architettura del Cinquecento, non sono estranea a una consapevole insoddisfazione per i risultati insufficienti di un lavoro sul presente. In questo testo non segui da riportare il resto perché si entra in un'analisi di una cattiveria, di un cinismo tafuriano, anzi direi tafurioso, che Giorgio adotta contro personaggi come Zevi, Gregotti, Carlay Molino, Botta, Purini, ai quali contrappone i Lucicchenti, i Morpurgo, i Tufaroli, i Grai, i Loreti, i Busirivici, i Rapisardi e infini altri, oscuri e meno oscuri, interpreti di un'avventura di una città, come seguita a dire Giorgio, costruita sull'esperienza magari ambigua delle cose, non solo sulla retolica delle parole e sull'opportunismo dei segni. Vorrei per un attimo riflettere su come vedevo lavorare Giorgio. Lui non cercava, come me, una via diretta verso la pratica dell'architettura. Per lui questa disciplina era un immenso luogo di riflessione e di osservazione ove estrapolare la sua filosofia mirata alle espressioni più semplici, normali ed essenziali del costruire. Opere, come usava a dire, di grande correttezza che nella loro semplicità erano in grado di esprimere al meglio un'identità e un impegno indiscussi, specie quando si avventurava nelle periferie costruite tra gli anni 30 e 40, dove leggeva con grande acutezza i luoghi più urbanisticamente e culturalmente disadattati, oggetti inquietanti, presenza anomale, a volte brutte da far pensare, secondo un'ipotesi non tanto arrischiata, al fascino dell'orrido di romantica memoria. Presenze che hanno funestato le notti insonne di tanti grandi e piccoli nostri maestri, tutti incapaci di andare oltre le invocazioni apoclittiche di una demolizione purificatrice e catarlica. Questo era il profilo di Giorgio. E così via. Ecco dunque la ricerca compulsiva di architetture emblematiche, quelle che resistono al tempo e alle mode, la ricerca ossessiva e compulsiva di architetti quasi sconosciuti alla critica, specie a quella che si rivolgeva al movimento moderno. C'è da dire che in questa sua continua ricerca a volte si inserivano le mie punsecchiature, poi dei ruoli mie nei suoi confronti, sul fatto che, come tanti della sua generazione, l'apprendistato, la bottega, non l'avevano mai interessato, né si era mai voluto piegare, rifiutandolo, perché non riconosceva alcuna affinità elettiva con molti dei suoi docenti architetti costruttori dell'epoca. In quel modo, eseguendo una linea tracciata dallo stesso Tafuri, di rinuncia al progetto, inteso come strumento di compromissione e asservimento ormai fuori del tempo. Si ricordino i proclami dell'inunità sociale dell'architetto costruttore di Ugo Lapietra e tanti altri, con le conseguenti che ognuno potrà trarre, sia negative che positive, nei riguardi della formazione della didattica. Ma era pur sempre un architetto e dunque non poteva far a meno di avvertire l'esigenza di rappresentare concretamente il frutto delle sue idee. Quell'architettura che nel suo caso, rubando un titolo a Christopher Alexander, chiamerei senza tempo Timeless Way of Building. E così invece di farlo, lo individuò come Fellini in Dario Passi il suo Mastroianni, una sorta di Giorgio 8,5. Avrebbe voluto progettare come Dario, ma Dario lo aveva già fatto e quindi conseguentemente, in base alla sua visione, lo classificò come il miglior prodotto della nostra generazione e ancor più convinto dello sannarlo nel momento in cui l'Accademia lo aveva respinto. A proposito di Dario, ero del parere di Giorgio ebbe a scrivere che fu l'artista più silenzioso e understated che abbia mai incontrato una figura emersa da una generazione di contestatori per occupare spazi e carriere. Ma la malcelata quiete del suo silenzio fu in quel periodo pari alla potente risonanza e inquietudine delle sue tele che invocavano palesemente a chi l'avesse voluto intendere la necessità di riconsiderare i canoni estetici e le mode architettoniche alle quali ancora oggi la gran parte della critica fa riferimento e si fa abbindolare. Ma torniamo a Giorgio che a sua volta a me consigliava sommarmente di ogni progetto che realizzavo di sfondare, semplificare, di farlo assomigliare in poche parole a quei casermoni che lui amava nella periferia. Di fatto ha sempre voluto visitare i miei cantieri e in particolare molti dei quali ha scritto. Ma insomma tanto per concludere quello che mi interessa dire è di quel suo carattere criticato che in effetti si pensi che non è mai riuscito ad eccezione di Dario Passi ad esimersi dall'affibbiare anche a personaggi che stimavano qualche stilettata persino Attafuri che adorava e demulava fu capace di attribuire l'appellativo di poligrafo Attafuri che non mi pare proprio un complimento. Spesso seppur a ragione non riusciva a frenare eccessi di critica dissacratoria non solo nei confronti di tanti personaggi ma soprattutto verso l'istituzione dove lavorava lasciando troppo spesso a chiunque lo ascoltava un sapore di amarezza. Ne valeva lusingarlo per edulcorare le sue critiche con proposte di incariche e possibili retribuzioni che regolarmente rifiutava fino ad arrivare da un certo punto a voltare del tutto le spalle all'ambiente dove lavorava ormai a lui del tutto estraneo. Questi suoi modi e le tante critiche a volte giuste ma troncian lo allontanavano da gran parte dei luoghi della cultura ufficiale a cominciare dal Maxi dall'Accademia di San Luca e da tante altre perché le persone non se la sentivano di ribattere alle sue critiche senza se e senza ma. Per questo nacque il suo blog dove si sfogava e dove registrava e commentava ogni pur minimo accadimento della cultura architettonica. Si trasformò così in una sorta di colto e acuto giornalista che con acumerio noi andava forse troppo contro tutti e tutto andando alla ricerca dei lati oscuri della nostra cultura. D'altro canto ebbe il merito di combattere battaglie campali per arginare o quanto meno frenare i tanti scempi che via via si perpetravano sul territorio e nelle nostre città in nome di una falsa architettura. E chi erano i maggiori fan dei suoi blog a parte molti dei presenti gli studenti che lo adoravano proprio perché di lui vedevano una sorta di Robin Hood che combatteva i ricchi cioè le istituzioni la scienza gli amministratori per difendere i poveri ovvero gli studenti e qui non andavamo d'accordo per tante cose ma qui le tralascio per rimanere nei tempi perché altrimenti poi diventerebbe una sorta di vecchio braccio di ferro come facevamo sempre dalla mattina alla sera e quindi vorrei concludere però con questo con una pagina che delineava l'altro suo volto ai più sconosciuti che se non ai suoi più cari amici Tullio, Pino, Luisa, Franz, Dario, Emilio quel volto incredibilmente tenero e affettuoso rivolto alla sua famiglia Clementina, Oliva, Saveria e i suoi cinque nipoti il suo amore per la natura gli animali e che dire del cibo la sua cucina sotto il cui tavolo scodinzolava il suo cagnolino sempre in cerca di una carezza e dalla cui credenza ci osservava un gatto mezzo matto tante volte quella stanza si è trasformata con tanti di noi in un piacevolissimo cenacolo letterario a volte perfino chiassoso e goliardico pervaso da una calda atmosfera che rimpiangerò per sempre la stessa con la quale con Giorgio varcammo giugnosi allegri pieni di speranza nel 1964 le soglie della facoltà di Valle Giulia Giorgio compagno di sempre forse a volte scomodo e imprevedibile al quale non si poteva non voler bene la cui apparente malcelata durezza di cui sava ammantarsi che ha cambiato di stato si è disciolta al sole sono sicuro proprio per andare a varcare un'altra soglia che gli consentirà di vedere criticare e curiosare quanto ci sia da analizzare lassù nella tutti noi agognata e improbabile casa degli Adamo in paradiso certo che la sua scomparsa per dirla con la condizione umana di Andrè Marrot sia stata quella di aver lasciato i ricordi di una vita che si accomputa con la morte attiva tale fare vivere ognuno di noi grazie grazie Marco per questa sentita testimonianza allora do la parola a Maria Cristiana Costanzo che che diciamo con Giorgio Muratore si è laureata e anche dottorata su un tema che riguardava le bonifiche napoleoniche e che oggi lavora come ha detto stampa alla Biennale di Venezia e ci parlerà appunto dell'avventura di spazio a Roma mi alzo così mi vedete meglio visto che sono un po' piccola sì sono un'allieva di Giorgio e frequentavo le sue lezioni alla fine degli anni Ottanta il corso di storia delle arti industriali e erano anni in cui mi piaceva progettare quindi non sì facevo questi corsi di storia che mi piacevano e Giorgio ci fece fare una faceva fare delle ricerche su i luoghi delle proprie origini e mi diceva sempre ma tu vieni da Latina e paludi pontine devi fare qualcosa cerca fammi una ricerca non so come non me lo ricordo capitai feci una ricerca sui ponti e tracciati i viari nell'agropontina prima della bonifica fascista e trovai agli archivi di stato di Latina un atlante delle paludi pontine pubblicato all'inizio a metà intorno al 1820 dal barone dei proni che poi è stato uno dei più longevi direttori dell'école de Ponce Chaussée a Parigi e Giorgio mi disse devi andare a Parigi a fare una ricerca devi capire cosa è sta roba non è possibile che ci siano questi album nella letteratura dedicata alle paludi pontine o comunque a Latina l'Hittoria c'era poco scritto della presenza dei francesi ma io volevo fare una cosa in progettazione volevo fare la tesi di laurea in progettazione quindi poi non so il francese non posso andare da nessuna parte poi dopo una diattriba con un professore con cui dovevo fare la tesi di laurea ritornai con la cosa tra le gambe da Giorgio feci un corso in tensione di francese e parti per la Francia dove agli archivi di stato trovai e Giorgio qui aveva ragione faldoni carta intitolata le paludi pontine mai aperti cioè gli archivisti degli archivi di stato di Parigi mi dicevano mai nessuno ci ha chiesto quindi ho un po' grazie a Giorgio aperto un capitolo che poi appunto scoprì adesso non mi dilungo su questa nota autobiografica ma in questa ricerca che feci a Parigi che poi feci la laurea il dottorato di ricerca per scoprire che le paludi pontine sono state un cantiere di riferimento per tutti gli ingegneri incaricati delle paludi litorali in Francia e comunque sulla costa anche dell'Europa quindi questa ricerca poi fu pubblicata in vari articoli ma insomma Giorgio mi ci spinse e con questo lavoro adesso oggi vedo qui Susanna Pasquali che fu il mio co-relatore e che lavorammo insomma insieme a Giorgio e insieme a Susanna per insegnarmi anche a chi architetto a volte ha bisogno almeno mi ricordo per me era fondamentale me lo fece capire Susanna che l'approccio scientifico a un testo è completamente diverso da quando uno vuole scrivere articoli così di più di intrattenimento e la prima del dottorato di ricerca Giorgio mi chiese se volevo andare a lavorare da Fuxas vi racconto questa cosa perché era il periodo della nuvola che è stata ricordata prima dalla Carrano e lì grazie a Giorgio sono andata a lavorare da Massimiliano Fuxas occupandomi esclusivamente non dei progetti ma dell'archivio fotografico delle pubblicazioni e lì ho imparato un po' il mestiere che poi faccio oggi era il periodo in cui moriva Zevi Fuxas prendeva la rubrica dell'espresso viene nominato direttore artistico della Biennale Architettura del 2000 io resisto in quello studio tre anni e poi appunto vinco il dottorato me ne vado insomma faccio altro quindi alterno nella mia vita dopo la laurea un po' un'attività molto intima che era quella della ricerca che mi portava a fare questi studi sulle paludi pontine e un'attività invece di comunicazione quindi molto più esterna sempre avendo il timore di essere sempre un po' fuori rotta e però il mio contatto con Giorgio mi conteneva mi aiutava mi diceva ma tu non ti preoccupare vai avanti finché mi chiamò io ero stata un po' di anni a Parigi per fare il dottorato mi chiamò per fare per organizzare Spazia Roma era una aveva avuto dei fondi dalla regione Lazio poi era in contatto con Marcello Cava che era un regista che si era occupato aveva occupato l'Ambro Iovinelli tutta quella la stagione dell'Ambro Iovinelli nella fine degli anni 90 e organizziamo un convegno itinerante per una ricognizione dei luoghi della cultura e dello spettacolo a Roma grazie alle ricerche che Giorgio portava avanti insieme all'Accademia quindi alle ricerche degli studenti quindi tutte queste tesi di laurea facemmo un inventario degli spazi recuperati da recuperare irrecuperabili recuperati male tante denunce ipotesi di funzione erano gli anni anche delle battaglie di Giorgio per l'Arapacis come dire ci dettero il loro contributo tantissimi anche di voi che vedevo più stamattina che adesso c'era anche Renato Nicolini fu una un'avventura importante perché riuscimmo a coinvolgere con il passaparola le comunità locali noi abbiamo diviso Roma in quattro parti adesso vi faccio vedere queste erano le sezioni da Termini a Cinecittà le vie dell'acqua del ferro e dell'aria l'abbiamo organizzato in questo istituto dalla piramide al Colosseo e facemmo questo incontro affollatissimo al porto fluviale utilizziamo la palestra del duce alla sala congresso del foro italico e al teatro dei Dioscuri per la parte di Roma Sud questa iniziativa che noi abbiamo riempito questi incontri di vennero politici vennero amministratori locali oltre che intellettuali della città la stampa non si fece viva nonostante io mi adoperai per comunicare questi un po' Giorgio mi aveva chiamato anche per questo nessuno si azzardò a pubblicare niente erano gli anni che tu ricordavi appunto Giorgio viene proprio bandito sembrava esserci quasi una fatua su di lui sulle cose che organizzava e Giorgio di fronte a questa cosa io mi ricordo che lavoravo tantissimo per diffondere questa notizia sui media e poi la sera facevamo il punto prima di questi incontri e io quasi mi scusavo non sono riuscita a far pubblicare niente così Giorgio mi confortava dicendomi sì lo so non ti preoccupare andiamo avanti come sempre diceva questa avventura fu poi come dire raccolta e documentata da una piccola iniziativa editoriale che abbiamo poi messo su proprio io e lui perché un giorno a studio così ci eravamo fatti dare tutti i contributi dei relatori mi fa vedere una rivista di letteratura tedesca da taschino era un pochino più piccola di questo alla fine il prodotto fu questo qui ora vi faccio vedere le varie copertine eccole qua non si vedono benissimo ma questo era il primo i primi due numeri che sono condensati questo era il formato poi alla fine era una 5 in realtà l'originale da cui dovevo prendere spunto era un pochino più piccolo l'abbiamo fatto in casa questo è una 4 piegato in due io avevo appena cominciato a usare Xpress e quindi fu come dire un lavoro un lavoro corale che però diceva come dire Spazia Roma secondo me e anche vi volevo leggere una cosa fu un esperimento secondo me isolato che con il quale volevamo tracciare una nuova narrazione per Roma Franco Purini che intervenne quel primo giorno disse queste parole guardate le leggo allora disse questo ciclo di interventi spero che non resti un esperimento isolato ma abbia un seguito perché ha dato espressione a un'esigenza profonda quella della costruzione di nuove grandi narrazioni per Roma sono certo che niente fino qua ecco volevo così brevemente dire che per noi allievi che ci siamo raccolti poi in questa occasione di Spazia Roma tutti intorno a Giorgio ognuno con un proprio contributo tra cui alcuni fotografi a cui Giorgio aveva abbiamo commissionato una ricognizione fotografica dei luoghi di cui avevamo parlato e di cui avevamo denunciato vi faccio vedere alcune foto di Alessio Sacquegna che si era occupato di queste parti qua Alessio oggi è qui presente Alessio si era laureato con Giorgio Francesco Galli che invece raccontò il fiume Tevere utilizzando questa macchina l'Hasselblad facendo un esperimento questo si si ho finito per noi allievi dicevo che abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo io parlo per me ma penso che parlando con tanti di voi che conosco è stato un mentore Giorgio Muratore quando pensavi di essere fuori rotta ti esortava come dicevo prima io poi alla fine ho capito nonostante pensassi sempre di essere fuori rotta invece parlando con Giorgio mi rendevo conta che ero sulla mia personalissima rotta cioè scoprivo che e oggi con questa rotta questa rotta mi ha portato appunto a Venezia dove sono la responsabile dell'ufficio stampa lo sentivo sempre Giorgio lo sentivo lo venivo a trovare e l'anno scorso mi ricordo che lo chiamai era un sabato pomeriggio e gli dissi quanto era stato importante per me il suo come dire il suo lascito poi per me è questo senso di libertà di autonomia e di indipendenza che avete ricordato che avete ricordato anche prima voglio concludere ringraziando Clementina Saveria e Oliva per avermi coinvolto sin dall'inizio in questa anche nell'organizzazione di questa giornata ma anche nel centro studi vi ringrazio perché mi permette di essere ancora in contatto con questa cosa e dico a voi che ho sentito da marzo ad oggi veramente tanta vita c'è tanta vita ancora tanta e quindi grazie a tutti grazie grazie Cristiana e soprattutto poi per aver ricordato il coinvolgimento tuo e anche di Antonio Schiavo e Andrea Brentivegna nell'organizzazione della giornata che sono stati assolutamente fondamentali per portare avanti l'organizzazione appunto allora do la parola a Luca Arcangeli che è stato che si è laureato con Giorgio con una tesi su Nicolosi è stato anche suo assistente e ci parla appunto della didattica alla ricerca si intitola la sua relazione salve allora innanzitutto grazie di avermi invitato a parlare in questa importante occasione in ricordo di Giorgio come vi hanno appena detto mi chiamo Luca Arcangeli e ho avuto la fortuna di essere assistente di Giorgio Muratore esperienza quella dell'assistentato che mi ha portato a stringere ulteriormente un rapporto quello con Giorgio che mi aveva visto essere prima studente del suo corso e poi desista tra la tesi e l'assistentato un'esperienza importante che ha rinsaldato ulteriormente i rapporti con il professore è stato progetti di ricostruzione una serie di mostre e conferenze monografiche avvenute tra il 2009 e il 2010 e dedicate ad importanti figure dell'architettura contemporanea in quell'occasione Giorgio diede fiducia e consentì di spendere il suo nome ad un gruppo di neo quasi laureati per selezionare ed organizzare una serie di incontri nati al fine di approfondire un tema a noi molto caro allora come adesso ovvero il rapporto tra progetto e città antica fu così che io Francesco Cianfarani Luca Porqueddo Valentino Chiapparelli riuscimmo a dare vita a questa serie di mostre e conferenze che coinvolsero alcuni tra i più importanti autori del panorama architettorico italiano e non solo Giorgio Grassi Nazasoro Carmassi Francesco Venezia molte lezioni furono introdotte da Giorgio Muratore e Franco Purini insomma un'importante occasione di crescita e confronto che spero sia stata tale per gli studenti come per le persone coinvolte in contemporanea al ciclo di conferenze iniziava il dottorato ma soprattutto l'esperienza come assistente presso il corso di storia di Giorgio esperienze che ho condiviso con Francesco Cianfarani ricordo con grande fatica quei giorni trascorsi costantemente in biblioteca i confronti fino a tardi per preparare le lezioni che Giorgio stesso ci spronava a fare in maniera diversa dalla sua rielaborando aggiungendo togliendo dal programma del corso insomma un'enorme esperienza formativa che ancora oggi ricordo con estrema gratitudine per il ruolo fondamentale che ha avuto nella mia formazione nonostante riponesse grande fiducia in noi tanto da lasciarsi alterare il programma lasciandoci introdurre in più punti argomenti diversi o tagliando diversamente argomenti già noti Giorgio era costantemente presente alle lezioni seduto in prima fila e non per fare correzioni o appunti su quanto stavamo dicendo ma semplicemente perché quello era il suo posto il suo corso un corso al quale non aveva fatto mai mancare la sua presenza un corso al quale la sua presenza non sarebbe mancata neanche ora in un momento così difficile come quello che stava vivendo personalmente successivamente Pino Pasquale e Giorgio Muratore mi cooptarono anche per la fase iniziale di Atelier Appennini partecipai volentieri a due episodi di questo importante esperimento svoltosi nelle città di Alvito e di Anghiari una sorta di laboratorio di progettazione itinerante per le città dell'Appennino le città dell'Appennino le città riniscimentali il suo famoso libro del 75 è già ricordato più volte oggi ho anche il rapporto tra progetto e città antica tema chiave del ciclo di mostre e conferenze a cui ho accennato e che Giorgio ha sostenuto fortemente la città forse il più grande interesse di Giorgio forse l'unico così complesso e contraddittorio da adattarsi alla sua multiforme attitudine alla ricerca che ancora nell'ultima stagione di vita si accingeva ad indagare avviendo una serie di studi sull'argomento e proponendo a noi assistenti di curare alcuni libri di una collana sulle città italiane che doveva nascere sotto la sua direzione ricordo che Francesco aveva appena iniziato la stesura del suo libro su Rieti mentre io avevo appena finito di raccogliere il materiale per il testo su Civita Vecchia e parte di quello su Perugia dovrei dovuto occuparmi principalmente del rapporto tra città e università che ben si inseriva sugli studi su Nicolosi da me condotti tutti i progetti che purtroppo avevano già subito un rallentamento e che si sono definitivamente interrotti a causa della prematura scomparsa di Giorgio tra le occasioni a cui dovette rinunciare nell'ultimo periodo non secondario è stato l'invito di Jose Ignazio e Lina Zasora a legarci all'Università di Madrid per tenere due interventi all'interno di quella che doveva essere una giornata di studi attorno alla figura di Giorgio Grassi cosa che dovette assumere inevitabilmente un'altra forma e che mi vide partecipare da solo a quell'importante occasione a cui Giorgio dovette mancare con non poco rammarico come accennato poco fa non posso non citare brevemente la ricerca su Giuseppe Nicolosi che nata nell'ambito della tesi di laurea sul recupero del risanamento del villaggio Breda divenne poi qualcosa di autonomo negli anni successivi continuai a raccogliere materiale sull'argomento il primo frutto di questa indagine venne nel gennaio 2013 grazie anche alla sensibilità all'impegno di Pietro Cefalì architetto e direttore scientifico della Casa dell'Architettura di Latina che riuscì a pubblicare con non poco sforzo editoriale il primo risultato di questa ricerca in questa occasione Giorgio accettò generosamente di fare l'introduzione al libro e di partecipare alle molte occasioni di promozione dello stesso sostenendomi con la sua presenza in questo percorso per me nuovo e difficile l'ultima di queste occasioni fu particolarmente importante perché nacque su segnalazione di Giorgio al professor Moschini il quale decise di invitarmi a tenere una lezione di presentazione del libro all'Accademia di San Luca tra poco più di un mese sono quasi due anni da quell'importante esperienza che mi dia dell'opportunità di tenere per l'ultima volta una lezione con Giorgio il lavoro su un lingue lo si prosegue tuttora sto tentando di finire l'inventario dell'archivio per conto del Ministero dei Beni Culturali cosa di cui sono sicuro Giorgio sarebbe contento ho deciso di proseguire questo breve intervento con uno stralcio e una lezione del professore ma veniamo a questo edificio che vedete alle mie spalle o meglio a questo progetto che sperava di diventare un edificio in più occasioni presentato a Mussolini un grattacielo enorme un edificio a torre un palazzo alto insomma via via un po' più basso ma man mano che si ristringevano anche le ambizioni di chi lo presentava e forse anche le prospettive dell'impero a Giorgio piaceva raccontarlo così ma perché induggiare su questo edificio di Palanti e soprattutto perché Palanti chi è Mario Palanti una domanda a cui forse qualcuno sa dare una risposta una domanda sicuramente meno oscura di qualche anno fa ma la questione non è neanche questa la domanda corretta è perché inserire questa serie di progetti di Palanti o di altri architetti considerati minori all'interno di un corso di storia dell'architettura contemporanea e per di più all'interno di un corso flagellato come tutti dall'inappropriato durata semestrale nella risposta a questa domanda credo si possa trovare tutto quanto serve per denigliare l'approccio di Giorgio alla didattica innanzitutto va detto che mostrare queste immagini il narrare la storia di questo architetto che con pazienza e perseveranza porta a Mussolini questa gigante mole questo grattacielo questa torre via via più piccola fa sorridere e non è poco il motto di spirito è una delle forme più alte di intelligenza ma più semplicemente in questo caso un geniale colpo di teatro che in un solo attimo introduce concetti nuovi e crea uno scarto rispetto alla storiografia ufficiale soprattutto cattura la platea degli studenti perché se è vero come è vero che una lezione universitaria è per l'80% teatro quella di Giorgio Muratore in alcuni momenti coincideva perfettamente con il seducente pezzo di un abile monologhista che teneva alterrarmente incollati gli studenti alla sedia e lo faceva anche grazie a personaggi come Palanti ma perché Palanti ci chiedevamo intanto perché sugli altri sui Le Corbusier Ibraiti Mies è già stato scritto tanto forse troppo ecco quelli arrivano comune certo vanno spiegati contestualizzati illustrati e quant'altro ma ci sono e in un modo o nell'altro ci saranno ci saranno Palanti no Palanti nei libri di storia non c'è o c'è poco e non è detto che ci sarà dunque ricapitoliamo un docente che spiega come è normale che sia ciò che è presente nei libri di storia ma che inserisce all'interno delle lezioni queste incursioni di illustri sconosciuti questo inevitabilmente ci porta a una serie di riflessioni la prima se vogliamo ovvia ma che vale la pena ricordare proprio perché la sua vietà spesso la consegna all'oblio ovvero nei libri di storia non c'è la storia nei libri di storia c'è una storia una storia che fatta salva una parte inevitabilmente oggettivo uno zoccolo duro condiviso da più storici è preda di un autore che ha si spera con equilibrio pensato le fonti e dato origine a una narrazione dei fatti anch'essa il più possibile oggettiva ma inevitabilmente in parte soggettiva perché fatta da una particolare prospettiva quella dell'autore appunto questo cosa significa? Significa che oltre ai confini del libro tra le pieghe della storia e dell'architettura c'è un mare di architetti un insieme esterminato di edifici e di oggetti di storie da narrare spesso intrecciate a doppio filo con i principali finoni narrativi con cui si confrontano che in alcuni casi anticipano di cui sono con causa o che semplicemente seguono ma con maestrie ed abilità tali da diventare anch'essi degni oggetti di studio quindi questo tipo di incursioni ci permettono di inquadrare diversamente personaggi che già conosciamo comprendere meglio l'eccezionalità di alcuni adori proprio per il rapporto differenziale con gli altri o viceversa di relativizzarne il contributo inserendoli in quella che probabilmente era una prassi operativa comune in una tappa epoca anche se condotta con maestria ed abilità scusate ma a me mi viene la lingua felpata ecco questa mi sembra una peculiarità del corso di Giorgio rispetto ad altri corsi di storia se vogliamo una specificità che ci dice molto del suo approccio alla didattica che in virtù di ciò porta lo studente a coltivare il dubbio lo spinge a ricerche autonome in direzioni diversi un insegnamento maieutico che incoraggia gli studenti a pensare autonomamente studiare prima e rimettere in discussione poi le varie letture del passato proposte dai testi un atteggiamento che ci aiuta a spiegare non solo la relazione con gli studenti ma anche il suo approccio alla ricerca come mai un profondo conoscitore delle fonti della storia un docente ai vertici della cultura architettonica italiana per quasi 40 anni non scrive un libro di storia ma consegna la dimensione dell'articolo e della curatela gran parte della sua produzione me lo sono chiesto molte volte e molte volte ne ho parlato con Giorgio che laconicamente mi rispondeva ma perché che vuoi dire articolando poi che altro vuoi dire l'hanno già raccontata in tutte le salse e non ne escono sicuramente Giorgio scorgeva i limiti dei vari approcci delle varie prospettive e anziché fornirne un'altra anziché scrivere un altro libro tracciare un'altra finestra dalla cui vista sarebbero inevitabilmente rimasti esclusi altri Palanti altri Gaetano Vinaccia altri Antonio Valente con i loro grattacieli i loro studi sui percorsi salari i loro teatri erranti anziché aggiungersi alle altre comunque necessarie storie già narrate ha preferito con silenzio e discrezione dedicarsi a questa moltitudine di singole vicende che è come un cercatore d'oro passare al setaccio questi fiumi apparentemente secondari della ricerca questi dettori nascosti tra le trame della storia così sia nelle ricerche personali sia attraverso l'ausilio dei tesisti che Giorgio gestiva come una vera e propria equipe di ricerca è giustito e ha riuscito a produrre fondamentali risultati per lo studio dell'architettura moderna i tesisti gli consentivano di essere libero anche da se stesso dai naturali preconcetti che un intellettuale del suo calibro inevitabilmente sviluppa e mette in campo quando era la scelta di un argomento di indagine con ingenuità molti si rivolgevano a Giorgio che si lasciava portare in mondi che conosceva per grandi linee e che spesso apprendeva tramite le ricerche degli studenti stessi per poi metabolizzarli ed inserirli in quell'ampio sistema di conoscenza di cui disponeva e quella che per lo studente spesso rimaneva fatterare eccezioni la ricerca della vita per lui diventava un'altra trama un altro ordito da inserire in quel grande razzo della storia al quale lui non voleva dare forma ma che voleva semplicemente osservare attendendo pazientemente che una forma affiorasse quasi per decantazione la personalità di Giorgio la personalità di Giorgio rifugia sicuramente a facile etichette da chi lo vuole scincheliano di ferro esperto di architettura rurale sostenitore del barocchetto romano appassionato storico del ventennio appartenente a questa o a quella scuola dalla parte dell'avanguardia o contro di esse morettiano sostenitore di guaroni o di muratori rossiano grassiano della prima ora o fine conoscitore delle alte applicate e del design muratore forse era tutte queste cose con l'inevitabile contraddizione che questo comporta in una personalità come quella di Giorgio così densa di conoscenze e passioni convivevano anime di interessi molto distanti tra loro spesso chi si avvicinava a lui lo sentiva particolarmente affine a sé a mio avviso semplicemente perché rileggeva in lui i suoi interessi senza cogliere la vastità e la presenza di altri che con quelli convivevano ed entravano in contrasto è per questo che ritengo particolarmente esatto il titolo di questa giornata perché proprio in virtù della vastità di interessi che lo contraddistingue Giorgio era soprattutto un intellettuale che aveva scelto come strumento la conoscenza dell'architettura e come campo di indagini nella società per muratore l'architettura era un punto di vista privilegiato per comprendere la società la storia dell'architettura non era a servizio del progetto ma viceversa per lui era il progetto a servizio della storia sia essa economica sociale, politica o storia personale biografia perché la sua era una storia dell'architettura fatta soprattutto di biografie di uomini con le loro debolezze e le loro passioni fondamentali per comprendere il quadro generale di quel disegno che lentamente sarebbe affiorato dalle coltri della storia grazie grazie Luca per questa lettura sulle tante storie che Giorgio ci ha aperto do la parola a Andrea Bentivegna che anche lui si è laureato con Giorgio su una tesi su mazzoni in Colombia e che ci parla anche lui dell'esperienza didattica allora buongiorno a tutti scusate l'emozione innanzitutto volevo ringraziare per l'opportunità di essere seduto qua insieme a questi nomi così importanti il mio personale contributo a questa giornata sarà quello di cercare di raccontare l'importanza del professor Muratore per chi come me soprattutto l'ha avuto come professore dunque io ho incontrato il professor Muratore per la prima volta quasi subito già al primo anno come molti altri sui banchi dell'aula 3 per il corso di storia dell'architettura moderna e contemporanea ero lì convinto che avrei assistito a una una lezione che avrebbe esaltato i grandi nomi le grandi archistar che lavoravano e compivano i loro capolavori nella Roma di quegli anni erano i primi anni 2000 e i vari Fuxas Renzo Piano Zadid stavano costruendo e rimodellando la faccia di Roma poi però arrivò il professor Muratore iniziò la sua lezione e ci mostrò questa immagine immediatamente tutte le mie certezze furono come dire spazzate via era si tratta di uno schizzo addirittura del 1797 eseguito da Freddy Gilly che poi verrà ripreso quasi un secolo più tardi da Schinkel per operare quella sua sintesi della modernità che poi poterà una nuova modernità ebbene iniziando così iniziando a seguire queste lezioni mi trovai poi di volta in volta a dover fare i conti con una sorta di conflitto interiore tra ciò che il professor tra ciò che io ero convinto fosse una grande architettura e ciò che invece diceva il professor Muratore che puntualmente smontava pezzo per pezzo ogni ogni nostra convinzione e così lui praticamente noi andavamo avanti in questo rapporto che ci costringeva a mettere in discussione qualsiasi cosa noi avessimo letto o tentato di osservare e carpire dalle rivisse più alla moda del tempo di architettura chiaramente in ogni caso le sue lezioni si articolavano sempre con non tanto come storie non tanto come un racconto della storia ma più che altro il racconto di varie storie che vedevano tra i loro protagonisti non architetti ma veri e propri personaggi infatti lui ci voleva probabilmente abituare a un nuovo tipo di linguaggio che non era quello che noi potevamo trovare nel mondo della cultura di quel tempo ma era qualcosa di più raffinato di più lui ci diceva di più moderno ma a noi francamente la modernità in queste immagini di Perlino non riusciamo a coglierla io personalmente l'ho iniziato a capire solo diverso tempo dopo comunque le sue lezioni erano sempre condite da memorabili aneddoti che lui distillava nel racconto di questi personaggi e così fortunatamente erano chiaramente interventi e commenti sempre ironici e graffianti addirittura alcuni altri studenti più diligenti del sottoscritto hanno avuto la prontezza di stenografarli e così oggi potrò riproporvene qualcuno allora uno dei preferiti dal professore era sicuramente Lohls che sicuramente rappresentava per il professor Muratore un caposaldo della modernità uno dei maestri della modernità però poi dopo oltre a ovviamente raccontare le importanti innovazioni introdotte nei suoi edifici poi dopo ci raccontava e lo definiva come una persona capace di e cito testualmente mandare a quel paese chiunque anche perché in fin dei conti faceva l'architetto solo a tempo perso ecco forse è una definizione un pochino colorita ma sicuramente questa libertà di Lohls era forse la qualità che il professor Muratore apprezzava di più cioè la libertà di poter dire quello che si pensava liberi da ogni imposizione dal contesto ma la stessa ironia con la quale descriveva questi personaggi era poi riversata anche nel racconto della loro opera ad esempio sempre parlando di Lohls un edificio di cui lui ci parlava l'American Bar costruito a Bienna ebbene dopo averlo descritto minuziosamente dopo aver descritto l'importanza della sua innovazione il professor Muratore poi lo definiva spiazzandoci una sorta di irriverente pernacchia alla tradizione europea allora questo perché secondo il professore ha ragione i viennesi erano soliti consumare i loro caffè seduti ai tavoli fino a quel momento invece Lohls in questo progetto introduce il bancone un elemento mutuato dalla cultura americana che il professore non manca di far notare era già presente nel far west nei saloon del far west che però il professore ci proponeva per obbligarci a dare una lettura diversa dell'architettura una lettura dove spesso elementi solo apparentemente marginali servivano poi per cogliere in realtà il vero senso di un discorso più complesso in questo caso per esempio il rapporto tra la cultura europea e la cultura americana che in tutta la sua vita ha sempre affascinato il professor Muratore sotto varie forme allora un'altra caratteristica delle lezioni del professor Muratore di cui sono profondamente grato era anche la capacità come detto di demolire ogni nostra convinzione riguardo a ciò che troviamo scritto sulle riviste o che ci veniva consigliato dagli altri architetti ad esempio lo ricordo in quel periodo nei primi anni 2000 prendersela soprattutto con la moda e la smania delle città di costruire grandi musei affidare la costruzione di queste architetture a grandi firme lui aveva già colto molto prima di tutti noi sicuramente che quella non era la strada per la vera modernità ma era solo una modernità d'apparenza addirittura ci metteva in guardia e lo faceva a modo suo ad esempio quando parlava della Sydney Opera House di Woodson diceva testualmente è la madre di tutte le porcate è un messaggio senza contenuto ed è solo stilismo post funzionalista cioè con una frase ha demolito quello che per noi era un caposaldo della modernità però allo stesso tempo non era una critica dissacrante fino a se stessa era un modo per aprirci gli occhi e costringerci ancora una volta a mettere in discussione tutto ciò che la cultura ci propinava comunque questa parte delle lezioni che era sicuramente una parte importante della sua attività però non era quella dalla quale si poteva comprendere chiaramente la personalità del professore che era piuttosto multiforme e eterogenea io personalmente ho iniziato per esempio a conoscerlo veramente solo tempo dopo quando lui accettò di essere appunto il mio relatore di tesi ecco fare la tesi con il professor Muratore era un'esperienza del tutto nuova nessuno di noi nessuno dei tesisti che erano con lui aveva mai fatto qualcosa di simile nei suoi anni universitari e lui non ci dava mai indicazioni non ci diceva mai cosa dovessimo fare piuttosto ci dava degli indizi ammiccava ci dava dei consigli che poi dobbiamo cogliere noi e poi sviluppare ma non aveva mai una ricetta per come si sarebbero dovute fare le cose però a questo proposito vorrei ricordare l'importanza e la bellezza anche di quei momenti passati insieme a lui in quelle interminabili revisioni per lui come diceva anche Luca Arcangeli i tesisti erano una sorta di investigatori privati che lui inviava sul terreno di queste indagini e che poi tornavano da lui per fare rapporto di ciò che avevano scoperto e sebbene ai nostri occhi non ci fosse nulla che lo potesse sorprendere ogni volta lui guardava emozionandosi questi schizzi e queste fotografie d'epoca che gli portavamo eppure lui nelle sue discussioni parlava sempre di aspetti inediti e in questo vorrei a questo proposito riproporre alcuni degli elementi che lui spesso ci proponeva che potevano essere delle riviste d'epoca che lui ci consigliava e ci raccomandava di andare a sfogliare addirittura dei quadri che lui riteneva intimamente connessi all'architettura però poi dopo il discorso si ampliava e coinvolgeva sculture persino scenografie teatrali questo è il flauto magico e la scenografia di Schickel che lui amava particolarmente ma anche la sua ironia e i suoi insegnamenti avvenivano anche attraverso cartelli pubblicitari che lui magari trovava camminando per Roma e automobili qua le corbusier all'ingotto e persino scene di film qua Ettore Scola in una abitazione di portoghesi comunque la grandezza di questi di questo strumento di questo linguaggio che lui utilizzava era duplice perché obbligava la riflessione ma soprattutto imprimeva nella memoria dei suoi studenti e dei suoi tesisti ciò che lui voleva comunicarci in questo caso lasciatemi ricordare quello che secondo me era l'esempio migliore della sua capacità comunicativa ovvero la spiegazione del Sigram building di Miss Van der Rohe il Sigram lui ce lo mostrava così con una slide in cui si vedeva la facciata e ci raccontava tutte le caratteristiche l'altezza la facciata la pianta insomma tutte le cose standard poi a un certo punto ci faceva soffermare sul colore degli infissi il colore ambra che rende così caratteristico questo edificio poi dopo faceva una pausa con grande teatricità e poi ci mostrava questa che era per lui la chiave di volta di tutto il discorso di Mies ovvero il whisky Sigram prodotto dalla Sigram al quale secondo lui ma non è improbabile pensarlo Mies aveva guardato per immaginare il progetto della facciata dell'edificio e comunque tornando alle tesi con lui erano un momento unico ed imitabile queste revisioni appunto interminabili che iniziavano la mattina e che finivano molto oltre l'ora di pranzo e dove durante le quali la tesi era solo un mero pretesto perché poi spaziavano in mille altri argomenti e avvenivano sempre come un piccolo cenacolo di giovani curiosi seduti attorno a lui da prima in sala professori e quindi poi negli ultimi tempi quando la sala professori era inagibile ai tavoli del corridoio del terzo piano con il profilo di Roma a fare da sfondo ecco l'importanza delle sue tesi era incredibile perché come detto noi eravamo i suoi detective e tramite noi i suoi detective il professore riuscì a indagare una serie di tematiche o poco conosciute come ad esempio i tanti architetti che il professore ha riscoperto e di cui parlerà l'intervento successivo ma anche temi a di poco inusuali ad esempio questo è l'archivio delle tesi dove sono custodite tutte le centinaia di tesi che hanno visto il professor Muratore come relatore ecco ad esempio il policlinico Umberto I un tema che molti architetti probabilmente ignoravano completamente oppure i materiali dei cantieri ottocenteschi un tema che probabilmente nessuno prima del professor Muratore aveva mai portato al livello di ricerca di una tesi di laurea oppure i mobili liberti della Ducro o anche addirittura questo secondo me è semplificativo i lampioni in ghisa della Roma tra 800 e 900 cioè un tema prettamente industriale che davanti al quale molti di noi passiamo senza neanche fare caso oppure ancora il teatro che era un tema piuttosto lontano da quello che era il suo programma ma che invece lo toccava da vicino con autori come Valente e Gambellotti o addirittura tesi di laurea sulle strutture temporanee dello spettacolo nel XX secolo dove addirittura si spingeva la ricerca ad analizzare le architetture del palcoscenico nel rock dai Pink Floyd dai Rolling Stones per esempio e poi quegli edifici che un tempo erano dimenticati un tempo erano lasciati nell'obbligo e che per primo o tra i primi il professor Muratore riscoprì come il monumento a Vittorio Emanuele II o Alexander Thompson l'architetto scozzese che adesso proprio in questi mesi dopo la riscoperta del professor Muratore viene celebrato proprio a Glasgow nella sua Glasgow ecco però lasciando chiudere con il tema di tesi che secondo me racconta meglio la particolarità del professor Muratore e quello che ha riguardato l'immobiliare dico questo perché la vicenda dell'immobiliare e delle tesi sull'immobiliare racconta tutta la particolarità del metodo di lavoro del professore e dei suoi tesisti infatti all'inizio degli anni 90 tra il 91 e il 92 alcuni giovani studenti del professore furono mandati indirizzati ovviamente dal professore in un capannone nei pressi di Casal Palocco e quello che trovarono al di là della porta fu quello che potremmo definire il santo graal della storiografia architettonica del secondo novecento ovvero tutto l'archivio della società generale immobiliare accatastato in enormi pile di faldoni ecco l'immobiliare era stata dimenticata dalla seconda metà degli anni 50 quasi condannata a una dannazione a memoria eppure il professore non si era rassegnato aveva deciso di riscoprirla e di raccontarla e da quel materiale scaturirono bene otto tesi ognuna delle quali si era soffermata su un particolare quadrante zona della città che l'immobiliare aveva rimodellato e finalmente per la prima volta si poteva riprendere in modo più sereno e con una distanza storica più ragionevole il discorso sull'immobiliare e riscoprire che oltre a ciò che aveva denunciato la stampa l'immobiliare era stata capace di regalare degli edifici e dei piccoli capolavori a questa città ecco secondo me questa tesi queste tesi questo ciclo di tesi più delle altre per la diciamo importanza della scoperta anche per la dinamica ci raccontano l'importanza del lavoro del professore e delle sue tesi grazie grazie Andrea perché c'hai veramente con una serie di indizi fatto entrare nel modo in cui Giorgio faceva le lezioni soprattutto penso che poi ci sarà stata la mano di Petreschi a suggerire quella tesi sui palchi secondo me Antonio Schiavo anche lui ha fatto una tesi con Giorgio Muratore su Carpi Ceci e ci parla delle tesi sugli architetti riscoperti buongiorno a tutti ma intanto come direbbe il professore l'ora suggerisce molte cose però diciamo che sarò molto breve per non dire telegrafico anzitutto ringraziare la professoressa Barucci e Oliva e Saveria per questo invito che mi hanno fatto veramente sentire orgoglioso e anche emozionato come vedete ho messo un'immagine una foto di Flavia della tesi dello studio Giorgio Muratore in cui ci sono tutte quante le tesi di laurea sugli architetti riscoperti e non solo però la storia che vi voglio raccontare non parte da Via Tevere ma parte praticamente da Valle Giulia perché casualmente proprio dieci anni fa perché era l'otto ottobre del 2007 io insieme a altre 300 persone più o meno entravo in quest'aula per assistere alla prima lezione di storia di architettura con un certo professor Muratore e la prima cosa che fece Muratore fu quella di distribuirci un programma abbastanza corposo con una bibliografia infinita quasi e come suggerimento ci disse di andare subito a vedere una certa palazzina che stava qui dietro praticamente che secondo lui era una delle più importanti costruita in Roma nel 900 e la palazzina era ovviamente la palazzina girasole di Luigi Moretti tuttavia però le lezioni di Muratore spesso e volentieri finivano un po' prima del momento stabilito cioè invece di finire alle due due e mezza finivano sempre verso l'una e il motivo insomma è capibile ovviamente la pausa pranzo e per colpa di Muratore io andavo a fare la pausa pranzo non al bar qui sotto o al pallone che c'era prima ma arrivavo fino alla casa al girasolo di Moretti perché c'erano alimentari molto insomma consigliato e praticamente io mi sedevo sulla panchina con la mia pizza con la mortazza e guardavo questa che era la gamba di Moretti che è tuttora incastonata nel prospetto laterale insomma della palazzina e dopo cinque anni insomma di un percorso universitario decisi di voler fare appunto la tesi con il professore solamente che ancora non era chiaro il tema diciamo io all'inizio mi ero focalizzato un po' sugli anni 30 quindi sull'architettura durante il fascismo sul razionalismo poi quando andai da lui in aula 9 lui mi disse che secondo lui l'architettura del periodo fascista degli anni 30 era stata già troppo staccheggiata troppo studiata e che secondo lui bisognava appunto concentrarsi sul dopoguerra sulla ricostruzione sul boom economico ed è qui appunto che inizia appunto questa avventura sulla tesi di laura su architetti riscoperti però tuttavia per me trovare un tema interessante un tema che potesse interessare il muratore un tema sconosciuto che potesse essere riscoperto era abbastanza difficile perché il professore aveva già fatto moltissime tesi di laura e adesso ve le faccio vedere cominciamo con Ghino Venturi Robaldo Morozzo della Rocca che già con questo nome penso che sarebbe stato perfetto Giacchino Herzog di cui uscirà a breve una pubblicazione Tullio Rossi architetto di edifici sacri a Roma a cavallo della seconda guerra mondiale poi il grande Venturino Ventura che personalmente il professore non conosceva e un giorno uno gli disse ma voi avete un grandissimo architetto e chi? Venturino Ventura il monitor dice chi? anzi se volete sulla salaria c'è una sua palazzina assolutamente fantastica e poi Giorgio Calzabini di cui vediamo una opera abbastanza importante ovvero la casa del fascio di Guidonia che è il primo edificio a piloti costruito nel centro Italia Gino Benigni architetto che ha operato a Roma negli anni 20 Alfredo Scalpelli con una tesi di Mauro Bernoni che è praticamente il figlio del nipote di Scalpelli ovviamente è inutile elencare adesso quello che ha fatto Scalpelli cioè si passa da Sabaudi a Tivoli all'Euro anche Ettore Rossi parlando dell'Euro appunto con il suo palazzo di ristoranti in uno stile che riprende non solo Piacentini ma anche Schinkel e Albert Speer Ernesto Puppo dal Mier al Rio della Plata Cesare Pascoletti che praticamente era uno dei suoi preferiti forse specialmente per quanto riguarda questo edificio qua che praticamente veniva fotografato spessissimo anche in serio nel blog poi la tesi su Paolini Petrucci Silenti e Tufaroli autori non solo di Aprilia ma anche di di Pomezia e poi Petrucci anche di Segezia poi magari Pennacchi vi parlerà anche dell'aneddoto del campanile della conferenza di Aprilia Ugo Lucicchenti e per finire Carlo Roccatelli Mario Palanti e Oriolo Frezzotti quindi capite bene che trovare un architetto interessante da studiare per me era abbastanza difficile visto che quelli che conoscevo io sono già stati fatti e praticamente un giorno stavo in sala professori e dopo che gli ho proposto temi come Pasanowski Nicolosi Calzabini il professore mi disse ma ci sarebbe questo Carpiceci e praticamente il professore Carpiceci l'aveva incrociato quando si occupava di Valente perché Carpiceci firmò la sua prima opera in collaborazione con Valente si trattava della facciata del centro sperimentale di cinematografia e di Carpiceci conosceva anche questa palazzina qui che è la palazzina Arcobaleno esatto lui la conosceva perché sono praticamente coede la palazzina del professore lui mi diceva che quando era piccolo e andava in Toscana passava sempre davanti a questa palazzina e per lui questa palazzina rappresentava un po' quello che era l'ingresso a Roma dal nord insomma la cosa pure interessante oltre alle revisioni e le lezioni erano anche gli aneddoti insomma pure le curiosità per esempio lui mi anticipò dicendo che io avrei trovato l'archivio nella classica cassa panca della casa di campagna e così fu praticamente io ho trovato l'archivio nella soffitta della villa della casa di Carpiceci a Santoreste mi disse anche di stare attento ai sorci e infatti trovai topi e pipistrelli però questo non ci ha affermato poi un'altra cosa interessante erano i soprannomi che lui dava a queste opere praticamente questa palazzina qui non era arcobaleno ma era quella del pappagallo non so perché forse per invece questa qui era la villa di Rita Pavone forse per questo linguaggio un po' un po' un po' estroso sempre riguardo a questa palazzina qua lui mi diceva mi spronava ad andare avanti dicendo che un giorno Carpiceci sarà più importante di Renzo Piano e che praticamente i turisti cinesi verranno a Roma e faranno le foto alla palazzina di Carpiceci dando le spalle all'editorium di Renzo Piano un libro fondamentale per la mia tesi non solo la mia fu questo qua ovvero 50 anni di professione dal 40 al 90 in cui c'erano tutti questi architetti romani in parte dimenticati che si erano iscritti all'ordine di Roma intorno al 40 lui mi consigliò di comprare questo libro e io gli dissi che non sapevo dove trovarlo e lui mi rispose dicendo che bastava che entrassi da K e me lo tiravano appresso praticamente perché nessuno se lo filava quindi altre tesi dopo Carpiceci che sono frutto appunto anche di quel libro lì sono quella su Augusto Baccin che è stato un grande collaboratore di Piacentini si è anche occupato di alcuni tipici all'euro e soprattutto della chiesa San Basilio Sergio Galizia Costantino Petriani e per finire l'ultima che è tuttora in stesura di Giulio Sterbini un'altra cosa interessante del professore non era solo il fatto che lui ti seguiva ti consigliava ma in un certo senso secondo me lui ci ha un po' trasmesso questo suo spirito nell'investigare le architetture dimenticate e la cosa mi è capitata personalmente perché io passavo tutti gli anni avanti a questa chiesa perché questa è una chiesa che si trova in un paese in Polonia dove abitava mia madre e solo recentemente grazie anche appunto a questo spirito investigativo che in parte mi ha trasmesso il professore ho scoperto che questa era una chiesa di Schinkel praticamente e quando io ho fatto vedere la chiesa al professore lui disse subito che era bellissima ho chiesto chi l'ha fatta indovini un po' e chi l'ha fatta Schinkel no non ci credo quindi rimase proprio assolutamente impressionato da questa mia scoperta un'altra scoperta che feci durante questo periodo fu quest'opera che potrebbe sembrare insignificante ma in realtà è la prima opera di Eric Mandelson che si trova in Polonia a Olosten prima opera che fece anche prima di laurearsi un'altra diciamo chicca che ho scoperto recentemente è questa diciamo composizione fatta da piastrelle della Ricci Arginori e praticamente questa l'ho trovata in un'azienda vinicola vicino a casa mia a San Vito Romano e con il professore siamo riusciti a capire che si trattasse appunto della fondazione di Colleferro poi in conclusione vorrei dire che per me il professor Muratore non è stato semplicemente un professore ma direi diciamo un vero e proprio maestro per non dire quasi un padre a livello professionale grazie 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 a tutti grazie a tutti